Accolgono i bambini ogni giorno per circa due orette e li aiutano a svolgere i compiti assegnati a scuola, dalla matematica all'italiano, dalla storia alla geografia. Arrivano dai 15 ai 25 bambini e bambine con lo zaino e spalla, libri, quaderni, colori e si siedono attorno ad un tavolo per studiare in compagnia, insieme ad altri coetanei e soprattutto con il supporto di persone competenti e che mettono a disposizione degli altri il proprio tempo, impegno e professionalità, spinte da un senso di solidarietà. Dal 7 novembre, infatti, nei locali della parrocchia di San Domenico viene garantito il servizio gratuito di doposcuola, grazie all'opera di quattro volontarie della Croce Rossa e anche di altre persone, alcuni insegnanti per mestiere, che hanno deciso di aderire volontariamente. Un'attività presente in parrocchia da più di dieci anni. Noi ci occupiamo dei bambini, dalla prima elementare alla terza media e qualche ragazzo di bienio superiore. Quello che gli diamo è l'aiuto nel fare i compiti. Molti bambini non sanno leggere, non sanno scrivere, abbiamo bambini con problemi proprio di comunicazione, quindi cerchiamo di dare un aiuto a 360 gradi, per quello che si può fare con le difficoltà che hanno questi bimbi, questi ragazzi. L'importanza di questo servizio è proprio perché avviene in questo quartiere, avviene con dei bambini che appartengono a famiglie che molto spesso noi assistiamo a 360 gradi, quindi con l'aiuto della parrocchia, con l'aiuto dei nostri volontari di Croce Rossa e soprattutto con dei cittadini che si mettono a disposizione della Croce Rossa per poter svolgere questo tipo di servizio. La Croce Rossa, nei suoi percorsi legalità, assieme alla parrocchia di San Domenico, Padre Alessandro Rovello, che ringrazio per la disponibilità, cerca di essere presente in questi territori e in questi quartieri proprio per avere più fini solidaristici nei confronti, non solo dei bambini ma anche delle famiglie. È soprattutto un progetto, è un percorso per quella crescita integrale che tutti noi ci auguriamo, una crescita che è culturale, una crescita che è nella capacità dell'ascolto reciproco, una crescita nell'amicizia, una crescita verso la via del bene. E questo progetto lo portiamo avanti in collaborazione con la Croce Rossa da tantissimi anni e siamo molto felici, molto orgogliosi che ci sia una bella risposta da parte dei bambini, dei ragazzi, ma anche delle famiglie che apprezzano particolarmente questo servizio.